Utenze domestiche e non domestiche, due solerate con scadenza 30 giugno e 30 novembre. Si presenta secondo queste caratteristiche l'articolazione 2017 della Tari, la tassa sui rifiuti gestita proprio dal comune di Arezzo dal 2016, tramite l'ufficio Tributi e grazie ad una precisa scelta in tal senso della giunta Ghinelli. Le principali novità riguardano soprattutto le modalità con cui saranno calcolate queste tariffe. Devo dire che da parte dei comuni c'è stato un forte coinvolgimento, cioè si è cominciato a capire che lavorando sui sistemi di raccolta e di veicolazione della spazzatura si possono operare dei risparmi, risparmi che alla fine poi arrivano in tariffa. Su questo ha lavorato, e qui parla il sindaco, il comune di Arezzo per alleggerire ulteriormente quel carico che era già più leggero per effetto della riduzione di alcune criticità che il gestore aveva presentato l'anno scorso, il risultato finale è che abbiamo una Tari per i cittadini che è meno 2%. L'anno scorso avevamo abbassato meno 2,4%, quindi in realtà siamo complessivamente a una percentuale significativa di riduzione rispetto al momento in cui sono diventato sindaco. Questo è il risultato, ci tengo a dirlo, importante, che era un impegno preso nei confronti dei cittadini e che stiamo lavorando per produrlo anche per il prossimo anno. Quanto riguarda la Tari, queste novità, quando le vedranno i cittadini in bollire? Le vedranno naturalmente dalla prima rata del prossimo anno, questa è la Tari 2017, quindi loro la cominceranno a pagare dal prossimo anno.